Riflessioni e tematiche sul mondo femminile. È stato questo il fulcro del convegno intitolato Storia, letterature e linguaggi, il femminile cancellato, il futuro, sguardi e nuove visioni, ospitato a Palazzo Monferrato ad Alessandria, nell'ambito della tre giorni all'insegna della cultura e della letteratura disegnata, come terza tappa del progetto di marketing territoriale che unisce le città di Alessandria e di Siracusa attraverso il fil rouge del fumetto, così come due figure di spicco, quali Umberto Eco e Deglio Vittorini, con il loro amore per i balloon. La manifestazione, promossa da Confcommercio Alessandria e Confcommercio Siracusa, è stata realizzata in sinergia con la Camera di Commercio Alessandria e Asti e prosegue ancora oggi in trasferta al Salone del Libro di Torino. Ieri sera, il momento tutto al femminile della Kermess, che ha visto più ospiti alternarsi a Palazzo Monferrato. È un momento molto complicato. Il Covid ci ha spiegato che la situazione nelle famiglie diventa sempre più grave. Non c'era migliore occasione come stasera, grazie anche a degli ospiti, quindi dei contributi che ci daranno, dal punto di vista culturale, una visione, sia su quello che è stato nella nostra storia, ma soprattutto nel futuro. Abbiamo voglia e dobbiamo, è un dovere educare i nostri ragazzi, i nostri bambini, le nostre bambine ad avere un futuro migliore con delle pari opportunità e delle pari possibilità. Questa è la cosa importante perché ad oggi non ci siamo ancora riuscite.